Mi scuso già dall'inizio se il video è un po' corto, un po' troppo corto, comunque ci ho messo come sempre tutto il mio impegno, spero vi piaccia e vi ringrazio mille per il supporto che date ogni volta a questa serie. Beh ragazzi il mio marraffe, oggi siamo qui con un altro episodio di Clash Royale. Questa serie sta andando sempre più bene e vi ringrazio, vi ringrazio del tutto il supporto. Cioè non so nemmeno io come dirvelo, ho talmente tante casse e stavo aspettando solamente la clonazione che troveremo oggi di sicuro perché se no mi sparo. Ho anche delle casse nel secondo profile, non ci crederete mai cos'ho, cioè voi state fino alla fine del video e lo scoprirete. Tra l'altro ho 500 gemme, quindi se mi compare il baule leggendario che oggi non c'è, potrei comprarlo. Supercell, magari se me lo fai apparire qua così per magia, no eh? No? Dici di no? Tra l'altro ho potenziato un casino di roba, tra cui niente. Are you serious? No scherzo, la scarica al 10 e devo anche fare gli spiriti di fuoco. Ma chi se ne frega andiamo a spacchettare. Ovviamente in quell'omaggio, figuriamoci se mi danno qualcosa. Speravo qualcosa nella seconda, ma no, niente. Oh, mega sgherro. Frecce. Che bello, i barbari scelti. Ah, tra l'altro mi manca anche una cassa, mi spiace. Saluto tutto il mio clan, che mi dona sempre i miei spiritelli di fuoco che a me servono, grazie mille. Seconda cassa d'oro, vediamo se trovo qual... Oh! Non mi servirà più il mio clan. Ora le ho al 10. Oh, Claudio, ciao. Non volevo fare una partita. Ve lo giuro, non volevo. Mi è volato il mouse. Vabbè, tanto la dovevamo fare per forza una partita, quindi facciamola, no? Questo mazzo è veramente troppo forte. Però io non so usarlo. Oh, ma c'è anche a te. No, un colpo me la dà. Vai domatore, vai. Dagliele, dagliele. Grazie moschettiera, almeno te mi aiuti un po'. Quella strega dobbiamo farla fuori così. Pfff, tronco tirato così a caso. Allora, allora, cos'è che potrei fare? Intanto mettiamo il moschettiere qui dietro. Eccolo. Oh, pensavo di averla tirata troppo presto. Due colpetti, le li dai? Anche tre? No, eh? T'ho questa, mamma mia, la stiamo bombardando di palle di fuoco, quella poveretta. Ho parlato. T'ho sì, bravissimo. Quanto ti amo. Daglielo un colpo. No. Oh, li ha messi, che culo. T'ho questa. E voglio vedere. Non fotti con me. Tra l'altro la congelo non l'abbiamo proprio usata. Ora la useremo. T'ho. Bellissimo. Oh, l'ultimo baule, quello gigante. Che troveremo una leggendaria, vero? Almeno la clone me la dai? La clone, certo. E vabbè. Oh, eccolo qua. La sorpresa che vi avevo promesso. Un baule leggendario. E qualche baule. Ah, qui c'è anche un baule epico che potremmo prendere, sì. Ma noi puntiamo alla clonazione. Clonazione. Eh? Clonazione? Niente clonazione. Clonazione, dammela. Ma la clonazione è un'epica, non ho capito. Ah, sì, è un'epica. Ecco perché non la trovo. Io la voglio. Dammi la clonazione. Dammi la clonazione. Oh, ma. Basta, dammi la clonazione. L'ultimo baule. Quello leggendario. No, 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 no. Stavo scherzando, non devo aprire quello. Are you serious? Apriamo prima quello epico, che magari ci dà la clonazione. È vero. Clonazione. L'ultimo baule, quello leggendario. Sì, ma vieni, sì, non ce l'avevo, sì. Oh, e abbiamo due leggendarie. Aspetta, aspetta. E abbiamo... No, no. Voglio farle vedere insieme. Oh. E abbiamo due leggendarie. Guardate che belle. Tra l'altro, fra 21 giorni, esce il mago elettrico. E quella vottuta clonazione che non abbiamo trovato. Ma vabbè. Comunque ragazzi, per questo episodio è tutto. Se vi è piaciuto, lasciate un mi piace, commentatevi, iscrivetevi. Noi c'era il prossimo giorno con un prossimo video. Beh, ragazzi. Cazzo, non dovevo vedere. Non dovevo farvelo vedere. Vabbè, ormai l'avete già visto il baule magico. Però, non ho solo queste. Cazzo.